No, finiti per le tue, acaaah! Ma non mi fa neanche finire l'intro, signor Dracula, vabbè, venga avanti, venga avanti, oramai. Come? Lei così cammina, questa camminata mesta, così, ma c'è più vampiro Dracula. Visto che lei, oramai, è un personaggio pubblico, no? Insomma, è diventato, ha una certa fama, lei oramai si gira pestata, immagino che la fermano, le chiederanno un foto. L'ha visto? Cosa? C'era Crosetto. Che ora Crosetto, il ministro della difesa. Ministro della isola, l'ha visto? Non l'ho visto, ma lei ha paura di Crosetto? No, mi fa tanto paura Crosetto. No, ma non fai, non sei una brava persona, è grande. Le ricorda a chi le ricorda. Non ho chiesto una brava Crosetto. Lui fa la guerra. No, lui cerca di non fare, va a fare di tutto, però. Comunque, stai tranquillo, non c'è né Crosetto né zombie. Allora, dicevamo, lei oramai è un personaggio famoso, sta diventando un... di una certa fama, ecco. Attivamente ho fatto il succhia. Chi succhia lei? Ho fatto solo VIP. Ah, perché lei oramai essendo VIP succhia anche solo VIP. Si è fatto oramai la bocca ai VIP. E chi può, dici se si può, qualche nome? Fedez. Ah, succhia da Fedez. E Fedez com'è andato? Adesso è da solo. Eh? È da solo. Ah, adesso è da solo. Certo, se no solo l'hai approfittata. Adesso l'hai approfittata della cosa che io l'ho andato. E come, di che sa invece Fedez? Un'iposca. Perché io gli ho sbocchiato forse un tatuaggio. Sa di un'iposca. Un'ipostro, una cosa. Sì, sì, sì. Ah, senta, tra l'altro, ha visto che al cinema c'è, magari ha visto che l'hai scrivuto, è il film dei me contro te in Transilvania, l'ha visto? Che c'è? Sono molto arrabbiato con quei due ragazzi. Hai arrabbiato? Perché la Transilvania, io passo lì le vacanze in Transilvania. Sì, sì. Ah, lei va in vacanza. Non mi hanno visto il promesso. Ma come mai va in vacanza in Transilvania? Sono di là, c'è mia suocera. Mi sono fatto a risolvere. E i due ragazzi li ho succhiati. I miei contro te li ho succhiato? Questi due. E posso chiedere anche lì qualche... Di cosa sanno? Sì. Filigrana. Sanno di filigrana. Sì, sì, e chi sa come mai. Va bene, signor Dracula, mi faccia solo controllare l'ultima cosa se ho qualche... Niente. Niente. Finiamo qui? Eh, finiamo qui allora. Però lei mi ha raccontato questo. L'avete visto? Ricciati di me?